A pochi minuti fa, in Gavardo, Brescia, Nord Italia, Iveta Lalova ha fatto il miglior momento in Europa quest'anno. 11-10. Iveta, tanta soddisfazione. È una bella soddisfazione, è un ambiente fantastico, una buona notte, una buona pubblica. Non ho esperto questo, da una piccola città, mi sento molto benvenuta qui e mi piace. E ho avuto la magia di Gavardo questa notte. Perché, in the heat, le condizioni non sono favoribili per me, da che sono niente e mi sento sempre il giro, ma è meglio. E ora, la season? Ora, la season? I'm still full of work, I'm still not ready to compete. I have a big world this year, this is the European Championship, so, everything is focused on them. And to run such a great resort today, this night, at my first competition, and I'm still not ready for it, it's a big present for my birthday today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.